Anche la categoria dei dentisti è stata pesantemente colpita durante questa emergenza sanitaria. Gli operatori odontoiatrici, che per definizione devono stare a contatto ravvicinato con i propri pazienti, hanno subito ingenti perdite durante tutta la pandemia. Controlli, visite, operazioni non urgenti, tutto bloccato per due mesi. Purtroppo il danno è stato dell'80% circa del fatturato, quindi il Covid ci ha messo anche noi in serie difficoltà. Per altri colleghi è andata, penso, peggio. Credo, da quello che ho sentito le notizie, il 20% degli studi generali in Italia potrebbe chiudere o ha già chiuso. Chi doveva andare in pensione, magari dei vecchi dentisti vanno in pensione anticipatamente. Ripartire ha significato ripensare in chiave diversa l'ambiente di lavoro e le pratiche odontoiatriche e nonostante un primo momento di incertezza, le persone stanno ora iniziando ad abituarsi e si affidano con sempre maggior fiducia ai professionisti. Noi abbiamo allestito gli studi, lo studio con tutti i vari presidi anti-Covid, dalle mascherine chirurgiche normali alle FFP2, controllare il sol, poi abbiamo adottato della sanificazione all'ozono. Ovviamente nei riuniti mettiamo tutte le pellicole, i camici chirurgici, le visiere, il gel per le mani. Gestiamo i pazienti con un triage telefonico prima di farli arrivare in studio o quando arrivano in studio addirittura gli misuriamo la temperatura. Sono molto contento perché stiamo lavorando bene e vedo che anche i pazienti non hanno più quel timore, quella paura di venire dal dentista che secondo me non deve esserci. Venite dal dentista, è tutto in sicurezza, non abbiate timore perché sarete trattati con i guanti e le mascherine, come si suol dire.